salve community nuovo appuntamento con basso online e abbiamo online marco siniscalco ciao marco carissimo ciao ciao a tutti come va come procede la quarantena musicale procede mio mal grado però la cosa buona è che sto suonando un po più del sol sto studiando un po più del solito cioè sto un po studiando perché non riesco mai a studiare quindi mi sembra già una roba abbastanza buona come come idea no certo certo questo ne approfittiamo un po tutti per rimetterci in linea insomma poi tu sei impegnatissimo fra collaborazioni arrangiamenti le lezioni con due conservatori san luis giusto sarei impegnato molto di più però mi sono saltati ovviamente tutti gli impegni live qualcosa invece di registrazione riusciamo a mantenerlo e questo è buono e poi le lezioni online sono come dire hanno preso hanno preso il sopravvento però devo dire che lezioni diciamo no uno su uno one on one vanno vanno bene cioè sono anche forse mettiamola così non ti possono più dire che a casa gli veniva meglio esatto quindi già è una grande conquista poi quando non possono dire no ho avuto un problema non sono venuto perché io gli dico ma la recuperiamo che problema c'è quindi loro ormai non fanno più assenza tanto sanno che io gliele recupero tutte quindi sono disperati però tant'è che insomma alla fine alla fine si è un sistema per andare avanti certo sì benissimo dai iniziamo a fare una chiacchierata su di te così ti presentiamo alla community ti conoscono tutti però ecco mi piacerebbe parlare un po come ho fatto un po con tutti gli altri anche delle tue origini insomma bassistiche quindi dei tuoi inizi allora io ho cominciato a suonare la chitarra a dieci anni non c'era mia sorella che era dunque io sono del 66 sono un vecchio quindi praticamente e beh la realtà insomma ormai cominciano ad essere 54 e quindi in pratica che era il periodo dei cantautori quando c'erano dieci anni cominciava cioè cominciava c'era un pieno pre un cantautorato cucine roba terrificante però mia sorella c'era sta roba suonava la chitarra e io quindi ho imparato gli accordi lì poi quando lei si è presa una chitarra un po meglio io ho ereditato la sua e non so perché ma da subito ho tolto le due corde superiori cioè mi sono rimaste praticamente il sorre la mi e ho cominciato a suonare le linee di basso per il motivo che non ti saprei dire a quel punto lì a 14 anni ho comprato il mio primo basso mi ricordo che ho preso l'autobus noi la famiglia mia stava ai castelli romani quindi ho preso sto autobus sono andato a mancini da mancini strumenti musicali che chi è di zona conosce è un negozio a morena vicino a stazione birra per intenderci c'è un chilometro e mezzo dalla fermata al negozio per cui noi per cui io praticamente andando da solo mi ricordo che c'era un budget di 100.000 lire che era una roba per me stratosferica sono andato lì ho visto una serie di bassi quello che potevo permettermi e anche che mi piaceva di più era un gibson diavoletto non era un gibson era era una imitazione però sembrava un gibson diavoletto quindi tutto contento a chi ha posto basso pago 60.000 lire quindi figurati pure cioè sotto budget ero ancora più felice me lo metto in spalla con una custodia che non ti dico c'era due cordine dopo 150 metri capisco che sarebbe stata comunque una vita difficile perché per farmi un chilometro e mezzo mi sono tagliato la schiena questo cosa per ritornare a casa però da lì poi ho cominciato a suonare e come facevano tutti quelli della mia generazione di quelle prima e anche di qualcuno di quelle dopo l'idea era quella di tirarsi giù le cose che venivano che mi piacevano sentendo sui dischi no soprattutto andando a casa poi i dischi non si prestavano i vinili non si prestavano quindi tu andavi con la cassettina a casa dell'amico ti doppiavi il disco tornavi e cominciavi a sentire mille volte la cassettina ogni due anni buttavi la piastra che non ce la faceva più no lettore delle cassette e così poi a 17 anni ho cominciato a fare le prime serate nei locali in giro per roma e sono stata devo dire abbastanza veloce nel senso che a 20 anni ho fatto il primo contratto in rai era una trasmissione di questi c'era marisa laurito era una varietà e c'era sì credo che oddio c'ho dei dubbi forse insomma era no non era quella con marisa era ancora un'altra cosa che adesso non ricordo bene comunque e questo mi ha dato anche un po di sicurezza no perché poi quando tu cominci c'hai sempre la famiglia contro come giusto che sia perché comunque sai i genitori non sanno che sanno com'è la vita no sanno che non è una cosa una passione l'altra cosa e poi andare avanti con gli anni eccetera però quando i miei hanno visto che che alla fine me la cavavo già lavoravo abbastanza appena uscito dalle superiori eccetera così hanno comunque mi hanno sempre supportato tant'è che poi sono andato il seminario di un villeggese ho vinto la borsa di studio nell'87 sono riuscito poi andare a 22 anni a studiare ovviamente borsa di studio ma anche supportato dai miei perché i costi non venivano coperti interamente e quindi ho avuto anche sta fortuna di studiare tanto arrangiamento big band cose che che poi mi hanno fatto capire da lontano però meglio il ruolo del basso perché sai come tu penso immagini e sai noi bassisti possiamo anche essere dei perfetti trogoniti no siamo una nota per volta no tu la sai la barzelletta delle prime quattro della prima serata fatta con quattro note in prima posizione quella ma c'è anche il ritorno dalla crociera tutto il gruppo che finisce la crociera di tre mesi allora tutti pensano no l'ultimo pezzo dell'ultima serata allora tu i pensieri di tutti c'è il tastierista che diceva ho lasciato quella quella ragazza bellissima all'isola e poi l'altro il batterista che pensa a casa torno mio figlio la mia moglie perché sono cose il chitarrista che dice comprare mille pedali e il bassista pensa do sol do sol e beh i luoghi comuni ce ne sono tanti in effetti una visione armonica e no che fa che abbraccia l'arrangiamento e quindi l'approfondimento delle cose che stanno dietro alle fondamentali e mi ha dato una grande mano è importante poi tu tra l'altro sono il bass elettrico il contrabbasso eppure lo stick quindi solo stick facilitato cioè il bass stick che sarebbe che sarebbe uno stick da con solamente otto corde invece delle dieci canoniche soprattutto accordato per quarte quindi invece di avere la visione diciamo leonardesca no contrario le balle corde basso tutto il casino poi per quarte per quinte invece praticamente c'è un basso esteso fino all'ultima nota della chitarra e almeno quello almeno quello resta però poi resta comunque la difficoltà tecnica però ovviamente si possono fare cose sicuramente advanced diciamo pure dal punto di vista sì sì è molto molto stimolante diciamo fortistico diciamo no esatto esatto come te che anche arrangiatore compositore sicuramente ti ci divertirai tanto immagino sì 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 ho fatto cose carine anche con un po di difficoltà devo dire però sì 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 bello senti tornando ai tuoi studi no io leggevo che tu hai studiato alla berkeley esatto ho avuto appunto questa cosa che ti dicevo di andare a fare questi prima i seminari che si che si fanno ancora tutt'oggi a perugia e lì ho vinto questa borsa di studio e poi sono andato ho fatto mi sono diplomato anche lì sempre un po bruciando le tappe perché avevo fretta volevo lavorare avevo poco tempo e avevo pochi soldi quindi invece che quattro anni sono stato due anni nel novanta dicembre del novanta mi sono diplomato e poi sono tornato sono stato un po di mesi a new york a vedere concerti cose che che mi ero riproposto di vedere e poi sono tornato in italia ho cominciato a lavorare abbastanza prima con gruppi vari in quel periodo c'era una quantità di locali a roma che a pensarci oggi non ci si crede anni novanta anni novanta io mi ricordo che facevo di locali solo di locali facevo 20 serate al mese più altri concerti feste insomma alla fine ci sono stati dei mesi che facevo tutte le sere quindi e tra l'altro venivano c'è le paghe hanno proprio una roba che se ci pensiamo adesso ragazzi più giovani mi dispiace per voi ma guarda è una roba veramente incredibile cioè anch'io stento a credere che quello fosse fosse era una bellissima realtà lo dico in tanti dei tuoi colleghi i nostri colleghi purtroppo senti e cosa ci puoi raccontare un po del periodo berkeley insomma com'era l'ambiente di studio stimolante cosa ti sei portato da questa esperienza diciamo rispetto all'italia ecco adesso visto che sei un docente nei conservatori italiani facciamo un po di paragoni ma noi i paragoni di quel tempo ovviamente non reggono perché la didattica in italia al tempo era era cominciava un po la didattica fatta in un certo modo in un modo diciamo analitico e soprattutto interdisciplinare no ma cominciava proprio allo stadio iniziale mentre adesso ormai le scuole i conservatori che ci hanno una una offerta di questo tipo sono sono parecchi quindi insomma adesso la differenza ovviamente è sempre nei mezzi perché per esempio la berkeley ha degli studi di registrazione che sono sempre stati aggiornati cosa che qualcuno c'ha qualche conservatorio c'ha qualche scuola c'ha però magari ne ha uno invece loro ne hanno cinque sei di studi di registrazione quindi la cosa che mi ha sempre colpito allora ma anche adesso di e che è una ricostruzione del mondo reale con l'unica differenza che invece di pagarti per quando vai a suonare devi pagare tu nel senso che tu è che da studente devi devi insomma sei sei dentro questo dentro il programma però l'idea è che c'è qualcuno che studia music production e quindi che studia per diventare produttore questo qua che fa deve per esami per fare l'esame passare su esame deve portare il prodotto della 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 sua specializzazione quindi deve portare un pezzo finito registrato quindi deve chiamare uno che studia songwriting e gli chiede un pezzo originale uno che studia arranging e gli chiede di arrangiare il pezzo originale e poi convocare la sessione dei musicisti in modo da il giorno x all'ora x da avere lo studio prenotato coi musicisti possibilmente puntuali dentro registrare poi chiama uno che studia telefonia gli fa fare il messaggio e dopo di che questo è il suo progetto ora quindi a me capitava spesso di registrare in studio cose diverse ed è una cosa che comunque mi ha fatto anche anche quello cioè sai poi al tempo c'erano i 24 piste non è che se sbagliavi ti tenevi lo sbaglio oppure cercare di non sbagliare no non era che poi mette aspetta aspetta guarda la battuta metti a posto sai no con finale con 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 protusso con logico con cubismo fai tutto al tempo quello quindi ti abituavi anche a essere come dire definitivo cioè va bene così va bene la volta prossima se non c'è qualcosa che mi piace cercherò di farlo meglio se no va bene va bene sono contento però quella era l'idea anche perché il tempo lì era era poco la una cosa molto bella poi era la quantità di studi di big band che si potevano fare no e quindi io feci questo corso con questo personaggio mitico che si chiamava herb pomeroy che era uno che si era inventato un sistema di scrittura lineare con tutta una serie di regole matematiche incredibili messe insieme durante gli anni decenni di studio lui in realtà era un amante di un proprio conoscitore profondo di duke ellinton con il quale peraltro aveva anche suonato un paio di volte sostituendo uno dei trombettisti lui originalmente era un trombettista quindi praticamente aveva avuto modo anche di vedere le partiture le parti di duke e era impazzito e aveva cercato di capire come faceva quest'uomo duke ellinton che questi qua normalmente facevano dalle 300 alle 360 date l'anno appunto cioè questa era tutte le sere ma soprattutto in città diverse e l'america è un casino non è facile diciamo viaggiare perché a parte che al tempo i voli non c'erano proprio ma anche oggi a me è capitato per esempio fare una bella tournée con il volo con questi tre ragazzi che nei stati uniti in sud america in tutto il mondo in realtà vanno vanno per vanno proprio alla grande avevamo uno sleeping bus per cui finivamo il concerto a mezzanotte a luna si 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 saliva sull'autobus ti andavi a dormire e ti svegliavi alle otto a 800 chilometri di distanza perché il problema è che tanto che ne so andare da cleveland a st louis non c'è un volo diretto devi passare magari per toronto quindi alla fine ci metteresti di più ed è più costoso e più scomodo loro per cui questi poi pionieri del jazz stavano sempre vivevano in autobus ci sono tanti film è uscito l'oscar l'anno scorso l'hanno dato non mi ricordo green qualcosa come come si chiamava quello dell'autista bianco di questo jazzista che poi avevano questo problema che dovevano avere degli autisti bianchi se non rischiavano di morire di fame perché nella maggior parte dell'america soprattutto del sud non potevano entrare negli autogrill diciamo per cui avevano sempre bisogno di insomma tutta di racconti di questo tipo ce ne sono tanti pure quelli della motown nel film della motown esatto che si cambiava il pigiama in macchina esatto lo stesso pastorius no? pastorius aveva uno dei primi sistemi per studiare in autobus il basso no? esatto la cosa che infatti stavano sempre a viaggiare ma la cosa che stupisce di Ellington è che abbia scritto una quantità di musica incredibile è arrangiata stando in autobus non c'aveva il piano in auto quindi questo insegnante storico della Berkeley aveva capito un po' come come lui si regolava per scrivere i voicing scrivendo poche cose dal punto di vista verticale poi scriveva tutte delle linee quindi ecco quello è stato un corso bellissimo poi devo dire che sono stato fortunato sempre preso sono riuscito a prendere dei corsi molto interessanti benissimo ma tu quindi sei partito subito molto jazz oriented perché sei andato umbria jazz mi dicevi e poi da lì borsa di studio e quindi io guarda ho cominciato realmente a suonare io sono suonato sempre molto pop e un po' di jazz io non sono realmente un jazzista però mi ricordo quando avevo 17 anni ero entrato nella big band del testaccio della scuola popolare di musica di testaccio che al tempo era proprio la sedera in via galvani e c'erano un sacco di colleghi che poi abbiamo continuato a vederci per tutta la vita perché c'era massimo d'agostini c'era giancarlo guidoni c'era aldo bassi alla tromba c'era alfredo posillipo al trobono insomma c'era un sacco di persone che poi hanno continuato vabbè adesso non mi ricordo ecco Paolo Tombolesi era un altro che siamo colleghi addirittura al conservatorio di Frosinone insomma tanta gente e lì la big band suona jazz quindi a me piaceva tendenzialmente mi piaceva suonare il basso quindi se io poi suonavo rock suonavo pop o suonavo jazz o funk io ero comunque contento la cosa che diciamo da cui io sono partito è più il funk cioè non sono il rock storico quello proprio anni 70 quello da cui si origina tutto l'ho conosciuto lo conoscevo ma l'ho poi approfondito dopo dopo i 30 anni di età prima nasco come funkettaro quindi proprio black music anche perché realmente detto fra noi la black music è quella che ha sviluppato di più lo strumento del basso elettrico mentre invece i rockettari alla fine doppiavano le linee di chitarra adesso insomma i rockettari mi salteranno al collo diciamo le origini poi magari le cose sono cambiate però generalmente il bassista nei gruppi rock era un chitarrista che non riusciva a suonare la chitarra mentre nei gruppi funk era un bassista oppure era un batterista convertito cioè tendenzialmente ci aveva molta più molto più molto più movimento si pensi a Sly and the Family Stone per esempio Larry Graham ma non solo lui lui è stato il capo scuola buzzi Collins insieme a Phelps Collins la ritmica di James Brown ma lo stesso Pastorius era molto funky poi come dire da certi jazzisti è pure vista un po' male quando si viene dal funk il bassista jazz lo vogliono puro jazzista puro il bassista jazz adesso si è un po' tornati a sta cosa cioè il bassista jazz deve essere un contrabassista e il resto lo fa il bassista elettrico poi ogni tanto arriva qualcuno come Christian McBride e ci dice guardate che però non è necessariamente così prima c'è stato Patitucci poi adesso ultimamente c'è Christian McBride e ce ne sono c'è gente che suona benissimo tutte e due però effettivamente c'è un po' sta divisione è anche giusto perché poi il jazz inteso nella maniera un po' più mainstream c'è quel suono lì e c'è bisogno di quella acusticità lì però io non sono un jazzista quindi faccio voi benissimo tu quindi tornato in Italia dopo i tuoi studi hai iniziato le tue grandissime collaborazioni faccio solo qualche nome di Sabatino, Telesforo, Salis, Fresun e Jazz poi Ruggero, Ray, Turci, Baglioni, Morandi, Il Volo questa recente insomma ti sei snodato appunto fra jazz, pop, passando per etnica io ti ho visto in una bellissima serata etnica te lo dicevo prima con Grottelli quindi suonare appunto questo Fredless in un contesto etnico che mi è piaciuto davvero tanto come ti inserivi quindi multistilistico, assolutamente multistilistico guarda finché non mi cacciano io continuo così perché mi diverte non sono tanto è proprio un po' è la mia storia sullo strumento non mi diverte stare e tutt'oggi devo dire che c'ho quando sto c'ho un po' di tempo mi prendo c'è un tipo una mezz'ora prendo lo strumento e suono così mi lascio faccio un po' sono libero nel fare quello che che mi piace fare sullo strumento quindi in quel senso lì quando posso cerco di fare tutte e due chiaramente ci sono stati periodi in cui il pop pagava di più periodi in cui jazz pagava di più devo dire che io sono stato anche molto fortunato perché per 26, 20, oddio ormai sono 94, 26 anni ho avuto questo gruppo che esiste ancora realmente che si chiama Aires Tango il cui leader è Javier Girotto che è una sorta di tango, fusion, jazz per così dire le origini, le melodie sono tutti pezzi originali però l'ispirazione è quella argentina non solo realmente di Buenos Aires quindi non solo il tango ma c'è anche molto folklore nelle parti interne di Cordoba quindi anche cose che sono realmente poi lontane dal tango però c'è quell'ispirazione latina molto forte e questo gruppo per anni realmente è stato dal punto di vista lavorativo oltre che ovviamente artistico e umano ma dal punto di vista lavorativo è stato proprio una fonte di sostentamento spesso molto migliore delle tournee che c'erano a quel periodo quindi non mi è neanche tanto poi pesato fare la scelta perché a quel punto lì quando la cosa è ingranato era come dire musica che mi piaceva stavamo bene insieme ed era anche pagata molto bene quindi per chi no? certo a proposito di pop e jazz mi piace citare un bel progetto un progetto a cui io sono molto affezionato che abbiamo con Paolo Di Sabatino e Fabio Goncato che realmente è proprio un po' la sintesi di questo discorso perché spesso c'è sta cosa il pop, il jazz i gezzaroli che odiano i popparoli i popparoli che odiano beh vabbè secondo me non è così in effetti questa cosa nasce da un disco che Paolo ha fatto qualche anno fa dove ha invitato vari cantanti tra cui anche Fabio Goncato che ha accettato di cantare un pezzo di Paolo e da lì poi è nata una collaborazione che è diventata diciamo abbastanza stabile ormai sono penso 5 anni 4 anni, 4-5 anni che facciamo molti concerti abbiamo fatto un disco e l'idea qual è? quella di suonare in modo un po' acustico non particolarmente pop tutti questi pezzi meravigliosi che Fabio ha scritto quindi lui viene interpreta i suoi pezzi con noi che li suoniamo come dire ci sopporta in qualche modo però mi sembra anche realmente che sia contento di questa nuova veste che Paolo di Sabatino ovviamente con i suoi raggiamenti ha dato alle sue canzoni per questo come idea alla fine non è poi sempre necessario andare sulla contrapposizione certe volte la creatività ti porta anche a trovare delle unioni c'è lui insieme anche per esempio l'altro partecipante del progetto perché in realtà è il trio di Paolo di Sabatino dove ci sono io c'è Glauco di Sabatino che è il fratello di Paolo un ottimo batterista soprattutto per queste cose almeno io veramente lo conosco molto su questo piano qui cioè di crossover tra il pop e il jazz la musica più acustica immagino che essendo una situazione acustica suonerai anche il contrabbasso in questa situazione o solo il basso elettrico? allora realmente per una questione di praticità suono solo il basso elettrico e suono solo questo basso di cui poi parleremo dopo il mio frutto però realmente il disco l'ho registrato con tutte e due prevalentemente con l'elettrico manca qualche pezzo con il contrabbasso benissimo le due esperienze televisive invece Sanremo e Dintorni guarda televisione io ne ho fatta tra gli anni 80 e diciamo l'inizio del 90 nel 94 mi sembra di aver fatto l'ultima trasmissione erano dei varietà una delle ultime se non sbaglio è stata con Stefano Palatresi insieme a Sandro De Hidda erano Stefano e Sandro che tenevano le fila della cosa però poi siccome appunto lavoravo abbastanza poi ho cominciato anche ad entrare nel giro un po' più grosso delle tournee perché da lì poi è partito Claudio Baglioni Morandi delle cose dei tour che ho fatto con loro e poi nel 96 ho fatto dunque un'edizione di Sanremo di Febbraio in orchestra in quel periodo c'erano due grandi professionisti alla ritmica c'era Enzo Restuccia e Nanni Civitenga che facevano sempre loro batteria e basso solo che Nanni quell'edizione non poteva era andato a fare una trasmissione diversa per cui erano rimasti sguarniti e io siccome era un po' nel giro mi chiamarono e quella fu sicuramente una bella esperienza che poi ho ripetuto nel 99 e nel 2000 però in quelli che si chiamavano Sanremo dunque uno era un Sanremo giovani dove c'erano le nuove proposte si faceva a novembre e poi un altro era un Sanremo famosi che era una specie di festa di tutti quei vincitori di Sanremo dall'inizio fino a quel momento fino al 2000 tant'è che ho suonato pure con Nilla Pizzi capito? C'è una cosa è una delle cose più importanti perché il suo curriculum è fondamentale perché in effetti no ma scherzi a parte erano proprio dei mondi diversi che poi uno capisce quando conosce perché quando senti un artista che non ti appartiene e la senti dall'esterno vabbè tu sai che questa ha rappresentato una fetta importante della scena musicale per gli italiani di quel tempo eccetera però non capisci tanto quanto può essere forte ma quando ci suoni e senti che quella ti regge il tempo c'è una canna a un certo punto capisci perché quella a 90 anni era ancora lì capito? certo come no erano generazioni toste quelle esatto sono quelle cose che quando sei giovane tu snobbi poi quando capisci dici sono proprio un coglione grande comunque in questa esperienza sei stato diretto da maestri come Pippo Carruso Peppe Vesticchio quindi comunque devono essere state esperienze interessanti sicuramente erano sempre ovviamente lì insomma i grandi direttori d'orchestra erano proprio erano proprio una razza a parte il primo con cui ho collaborato ho avuto la fortuna di lavorare è stato Gianni Ferio addirittura per una cosa insieme a Christian De Sica abbiamo fatto una trasmissione a Canale 5 e quello è stata una cosa molto Gianni poi era a parte un grande signore ma veramente un super arrangiatore e ovviamente tutti tutti quelli con cui ho lavorato sono Peppe Vesticchio è una una forza della natura è un professionista incredibile proprio conosce tutto conosce e c'ha un modo di relazionarsi così tranquillo ti mette così a tuo agio che non puoi suonare male capito sa come tirare fuori il meglio dai musicisti una grande persona un grande musicista con cui ho lavorato è stato proprio Pippo Caruso che io insomma ho amato particolarmente era quello era il direttore d'orchestra dell'edizione del 96 lì c'era ancora Pippo Baudo era ancora tutta la serie degli show Baudiani e quindi lui era quello che lavorava ma mi ricordo che c'è questo non so se possiamo raccontare questo episodio che mi fa sempre ridere praticamente quell'anno c'erano se non sbaglio c'era Valeria Mazza e Sabrina Ferilli può essere ma non mi ricordo non so chi fosse vabbè comunque sono sicuro che fosse Valeria Mazza la bionda perché c'era questa cosa che il suo compleanno cadeva nella settimana di Sanremo lei è argentina quindi praticamente l'assistente del direttore di Pippo Caruso da prima dall'inizio delle prove si fa un mese di prove comincia a dirgli guarda Pippo che qui sai che giovedì della settimana di Sanremo c'è il compleanno quindi devi scrivere una cosa un tango una roba vabbè adesso ci penso e questa cosa è successa per tutte le settimane una volta a settimana per tutto il mese di prove Federico Caprani che al tempo era l'assistente arrivava e diceva senti ma hai scritto una cosa adesso poi la scrivo e praticamente arriva la settimana in cui cominciamo la diretta e quindi tutti i giorni l'assistente Federico lo pressava Pippo mi hai scritto questa cosa quindi ci serve dobbiamo provarla abbiamo 60 persone in orchestra adesso ci penso insomma arriva il giovedì della settimana di Sanremo entra Federico alle prove e fa senti dobbiamo provare questo pezzo non possiamo più guardare quale pezzo per Valeria dobbiamo fare il pezzo vabbè vabbè adesso lo faccio aspettate un attimo quindi va di là dove c'è un pianoforte di là nella sala prove torna dopo 10 minuti con un tango originale scritto alla Picciuco capito alla Nibaltroy proprio il linguaggio perfetto del tango antico argentino con appunto un minuto e mezzo di musica scritta per 60 persone la dà il copista copiate queste parti dopo mezz'ora ci ha messo più l'ora a copiare le parti che lui a scrivere è tutto pronto abbiamo provato questo pezzo che era meraviglioso capito e lì ho capito la portata del personaggio con chi stavamo capito con chi avevamo che fare bellissimo bellissimo aneddoto ti ringrazio per aver condiviso queste perle beh ma è anche un modo per per l'affetto per ricordarli per l'affetto che ho per loro comunque benissimo senti parliamo un po' di didattica visto che tu sei un grande didatta insegni al St. Louis insegni in conservatori vari armonia jazz strumento secondo dimmi tu secondo te secondo te qual è il polso un po' della musica nei conservatori anche con l'innesto di questi corsi di pop rock basso jazz come la vedi tu? beh i conservatori diciamo che hanno ovviamente la parte classica che continua ad andare va molto bene ovviamente la lirica però è una sono dei dipartimenti che sono affollati da persone che vengono dall'estero realmente nel senso che noi certo ci sono anche un sacco di italiani intendiamoci però comunque soprattutto gli orientali insomma sono anni che ci riempiono quei dipartimenti e questo a noi fa gioco mi dispiace un po' diciamo dal punto di vista di musicista italiano non vedere che noi sviluppiamo molto questa parte qui diciamo di repertorio o comunque di modo di suonare nel senso che ci sono in Italia quelli che si chiamano melomani cioè gli amanti della lirica che sono sempre loro sono gli abbonati della scala dell'opera eccetera del teatro reggio però tendenzialmente non c'è un grosso non c'è neanche un tentativo di recupero di questa musica da parte di magari di quelli che potrebbero arrangiare anche in modo diverso cercando di recuperare le melodie e né tantomeno una grossa valorizzazione cioè viviamo un po' di rendita su quella cosa lì noi diciamo della generazione precedente a quella di oggi ma anche le generazioni di oggi non abbiamo mai avuto un grande amore per la musica lì cioè se viene scoperta poi ecco scatta qualcosa però è molto difficile cioè devi proprio mettertici io personalmente l'ho scoperta qualche anno fa ovviamente sono impazzito devo dire per esempio che questo è l'unico prodotto musicale italiano che va per la maggiore all'estero tant'è vero che questa tournée con il volo è risultata una cosa che è inaspettata nel senso che noi io l'ho fatta nel 2012 quindi dobbiamo ancora vincere Sanremo dovevano ancora diventare così famosi in Italia ma fuori erano già famosissimi perché perché noi non è che possiamo andare a fare rock negli Stati Uniti ma c'è speranza certo è normale qualsiasi garage band di Texas ci fa massi così e in realtà quei concerti dove loro cantavano nel modo in cui cantano loro che si avvicina alla lirica e devo dire ma sempre molto bravi intonati perfetti super professionali Aldora avevano 17 anni non si divertivano ma erano cortissimi veramente come lo sono adesso erano dei concerti seguiti esclusivamente da americani cioè non trovavi neanche un italiano a volte si sentono queste tournée che qualcuno dei nostri artisti italiani fa all'estero però poi vai a vedere molto non sempre però molto spesso succede che gran parte del pubblico è italiano come anche giusto che sia in questo caso no non c'era neanche un italiano perché gli italiani non vanno a vedere questo questo è un po' un peccato tornando ai conservatori quindi i dipartimenti quelli vanno un po' per conto loro spesso affollati da stranieri ovviamente i conservatori hanno capito che per continuare ad avere un certo numero di iscritti conveniva aprire anche i dipartimenti oltre che jazz anche pop rock perché invece di come dire di lasciare tutta quell'utenza alle scuole private hanno capito che si poteva cominciare a convogliare nei conservatori e risolvere anche alcuni problemi quindi questo sicuramente è un dato positivo un dato un po' meno positivo per le scuole private perché chiaramente se uno ha anche un'intenzione non troppo seria con la musica però l'idea di potersi prendere un diploma accademico piuttosto che non prenderselo è fagola quindi anche a minimamente indeciso sceglie il conservatorio certo quindi questo è sempre il problema che devi pure beccare l'insegnante giusto insomma chi viene e trova te è fortunato speriamo però quello fa parte un po' del gioco è chiaro che le scuole private hanno una selezione di insegnanti più accurata perché possono puntare solo su quello sui conservatori è vero che anche lì è molto cambiato nel senso con la calata un po' della richiesta dei concerti da una parte e anche con la diminuire dei cachet mentre una volta quelli che suonavano a un certo livello suonavano e basta adesso vedi spesso che ci sono grandi nomi anche nei conservatori per cui trovi Fabrizio Sfera o Roberto Gatto che insegna il batteria trovi Danilo Rea trovi Rosario Giuliani De Ida per dirne un altro bravo Dario De Ida Sandro De Ida certo ma adesso mi abbiamo detti alcuni ma non me ne vogliono gli altri c'è un sacco di gente che veramente pensa anche Marco Tamburini che purtroppo ci ha lasciato tre anni fa che è quello che ha aperto il dipartimento di Gesa al conservatorio di Rovigo dove io ho avuto la fortuna di insegnare per un anno gli hanno intitolato un bellissimo auditorio ma lui ha fatto un lavoro incredibile e nel frattempo faceva i turni con Giovanotti cioè voglio dire era un musicista pazzesco questa cosa dello studio io vedo anche ci sono tanti artisti che che sentono l'esigenza dello studio ci sono tanti tanti artisti che a un certo punto si fermano oppure approfondiscono delle parti della loro formazione musicale utilizzando anche delle didattiche guarda ti faccio un esempio che per me è stato incredibile io ho avuto la fortuna di suonare per 4-5 anni di seguito con Carmen Consoli che è una grandissima cantatrice secondo me è una delle migliori che abbiamo e soprattutto c'è un mondo di originalità incredibile tra l'altro anche lì c'è un bel aneddoto perché nel 96 lei faceva la prima edizione di Sanremo dove io suonavo al basso per cui ci eravamo già incontrati poi purtroppo la cosa è andata strana nel senso che io ho purtroppo preso il posto del suo grande Leandro Campo di Suriello che era un bassista incredibile che purtroppo ha avuto questo incidente letale insomma alla fine di una serata stavano andando a prendere una cosa purtroppo è stato investito insomma Carmen proprio l'anno scorso a un certo punto ci siamo sentiti e mi parlava appunto aveva cominciato questo corso per corrispondenza alla Berkeley fatto molto bene perché lei era da tantissimo tempo che voleva approfondire delle cose di arrangiamento lei poi è bravissima a scrivere ma anche scrivere archi se sempre molti degli arrangiamenti dei suoi dischi li ha comunque poi alla fine come dire architettati lei scritti lei insieme poi ovviamente a Massimo Roccaforti sui collaboratori però lei era quella che aveva sempre la visione molto chiara lavorando con lei c'ho questa sensazione proprio di lei che ci dirigeva un po' tutti quindi ha sempre avuto questa cosa a un certo punto si è messa a studiare per dirti che magari un'altra cantante non lo farebbe esatto magari potrebbe anche non farlo invece vedo che appunto c'è comunque lei è stata devo dire quella più completa ha fatto proprio un corso pensato per essere fatto a distanza della qualità della Berkeley però ecco mi ha fatto molto piacere vedere questa cosa perché perché ci sono delle cose che poi evidentemente i veri musicisti a un certo punto devono maturare e devono approfondire ecco benissimo senti Marco è giunto il momento di parlare un po' di strumenti abbiamo parlato di carriera adesso prima mi stai facendo un po' sentire il tuo bellissimo frudo a fretless che dici facciamolo sentire un po' pure alla community che è uno strumento spettacolare poi nelle tue mani non ne parliamo proprio speriamo perché un po' che non lo suono quindi sono stonatissimo io sono poi un bassista stonato quindi se sei stonato tu non lo so guarda noi leviamo mano noi comuni mortali allora questo è un cinque corde che c'ha una mi alzo un po' così lo inquadro meglio bellissimo si vede si 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 vede vai tranquillo vai tranquillo c'ha questo sistema per cui c'è un pick up normale poi c'è un piezo elettrico al ponte che è devo dire c'ha questo suono ovviamente senza tastiche però è abbastanza lontano da quello che per noi bassisti è il senza tasti cioè giaco classico fender diciamo e io l'ho scelto un po' apposta proprio per evitare di cadere come dire nella tentazione perché poi quando c'hai in mano un fender senza tasti è molto facile che ti escano quelle cose invece con questo diciamo poi c'hai varie possibilità adesso io più o meno lo tengo così come bilanciamento a metà tra il pick up normale e il pick up piezo poi ha anche un piano armonico sospeso vedo quindi esce un suono molto acustico esatto c'è un piano armonico sospeso sopra diciamo il il banico che è neck to body e poi c'è l'elettronica insomma io l'ho sentito suonare anche dal vivo e confermo che c'ha un suono strepitoso sì devo dire che questo è uno strumento a cui sono molto legato c'ho anche degli altri belli strumenti come l'offner nuovo è preso nuovo però comunque è uno strumento che mi ha dato delle sorprese non immaginavo che fosse così divertente suonare vabbè poi c'ho Yamaha da sempre per cui c'erano 3-4 di Yamaha che sono comunque degli strumenti molto belli c'ho il mio basso di punta che è questo qui è l'NE2 che è praticamente natanist bellissimo che devo dire c'è una definizione notevole ma poi ci sono anche degli strumenti vabbè c'ho ancora l'attitude 5 corde c'ho 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 uno Yamaha di qualche anno fa che si chiama BB605 i miei insomma studenti lo sanno perché glielo consiglio sempre è uno strumento che è andato fuori in produzione e si trova ogni tanto sul mercatino musicale che però per il prezzo a cui si trova devo dire che è notevole perché comunque c'ha un'ottima definizione ma una bella quinta corda è un po' fenderiano ricordo un po' il suo c'è una bella presenza dei medi quindi bisogna trovare anche un po' la propria voce molto 5 cordista tu sei cioè ami il 5 corde sì in realtà io c'ho un jazz un vecchio fender jazz che realmente ho comprato nuovo negli Stati Uniti nell'87 infatti si è invecchiato con me ed è un basso che hanno prodotto per tre anni era una Rishu Vintage che hanno fatto dall'86 all'89 perché poi sono cambiate delle leggi in California mi pare di aver letto che erano entrate in vigore delle leggi ambientalistiche per cui le vernici all'anitolo non potevano più essere usate e quei bassi quelle riedizioni vintage che facevano che hanno fatto in quei tre anni erano fatte perfettamente uguali a quelli del 62 quindi in pratica al tempo era nuovo io adesso mi trovo un basso vecchio che però era già concepito bello con i legni 5A invecchiati in quel modo e quello è uno strumento con cui ho suonato tanto con Gigi abbiamo fatto un disco che si chiama PFL Pure Funk Live che ancora si trova in giro ci sono delle cose sia su Spotify che su YouTube con cui io suono solamente il Fender Jazz con un hip shot di tuner che mi aveva regalato al tempo Alex Britti per fare un Sanremo Giovani in cui lui si presentava con un pezzo che aveva fatto scordando le corde quindi quello era l'unico modo per farlo senti prima quando ci siamo sentiti mi hai accolto gemmando sulla suoneria di Skype è una cosa troppo figa la vogliamo far sentire un po' al nostro pubblico come lo volentieri perché ormai con sta storia siccome c'è la chiamata Skype è come dire come si gemma in quarantena ecco qua quella colonna sonora questa la conosciamo tutti però sono anche due accordi è davvero bello alla fine diventava un modo per passare il tempo prima che si risponde infatti senti allora ci siamo fatti una bellissima chiacchierata abbiamo sentito il tuo bellissimo strumento in chiusura ti vorrei chiedere qualche consiglio per i giovani bassisti studenti diciamo così questi che comunque nei conservatori tu incontri adesso online prima nei conservatori insomma che cosa ti senti di consigliare visto anche il periodo storico insomma della musica ecco appunto guarda io credo che ci sia ci siano tante cose che si possono fare che sono tutte valide però c'è una cosa fondamentale credo che è quella di portare avanti dei progetti propri lo dico poi io che non sono proprio uno bravissimo a fare questo però qualcosa lo sono riuscito a fare e poi sono state delle cose che mi hanno sempre dato soddisfazione ma mi hanno anche dato un certo equilibrio dal punto di vista musicale perché quando devi decidere tu che cosa vuoi fare come vuoi che taglio dare al tuo progetto che tipo di arrangiamenti che strumentazione vuoi scegliere e anche dal punto di vista umano chi andare a prendere che non è proprio l'ultimo dei problemi perché puoi avere una super band però di gente un po' strana per cui poi magari dura poco o fai molta più fatica però quando fai tutte queste scelte anche la diciamo il tuo essere musicale si definisce meglio capisci meglio quello che sei musicalmente quando sei tu quando produci quando produci perché ovviamente e te lo dico da anche da parlando come turnista perché che è un lavoro che conosco bene quando ti chiamano per mettere il tuo strumento su musica che esiste già chiaramente tu cerchi di sintonizzarti su quello che ti sembra che l'autore voglia però poi a volte perdi un po' la tua personalità perché cerchi di stare appresso a uno all'altro alla fine tu chi sei quindi il modo di recuperare o di non perdere troppo contatto con quello che uno è fare progetti personali ed è anche una grande soddisfazione quando uno ci riesce quindi questa è una cosa importante e poi la cosa più importante è cercare di divertirsi più possibile cioè questa sarà una cosa che non lo so mi si ritorcerà contro già lo so però ragazzi se a un certo punto vi accorgete che non vi state più divertendo non c'è nessun motivo per continuare a suonare ah non c'è una lira quando ci sono le pandemie siete gli ultimi a ricominciare a lavorare quando ci sono problemi no qualsiasi tipo di problemi di natura elettrica oppure c'è c'è manca la luce se suonate il basso elettrico il batterista continua a suonare il sassofonista niente quindi a maggior ragione sugli estremamente elettrici c'è un handicap di più quindi se non vi divertite accannate subito e trovate una cosa che come minimo vi diverte o se non trovate niente che vi diverta cercate un lavoro che vi fa guadagnare un sacco di soldi va bene è un ottimo consiglio molto come dire onesto diciamola perché comunque è vero è tosta però ecco cerchiamo di divertirci i ragazzi sicuramente si divertiranno soprattutto a fare lezioni con insegnanti del tuo calibro spero dai spero comunque insomma è una cosa che mi dà anche molta soddisfazione e tra l'altro tanti miei allievi mi tengono aggiornato con le cose che escono cioè il fatto anche di insegnare è anche un buon modo per tenersi aggiornati sulla marea di roba che tutte tutte le settimane esce su youtube su spotify che certe volte uno non riesce a stargli dietro e anche sulla tecnologia i pedali che escono nuovi cioè spesso magari mi trovo a comprare dei pedali mi ha consigliato il mio allievo quindi alla fine realmente è uno scambio ottimo va bene Marco io ti ringrazio davvero tanto per questa bellissima chiacchierata è stato un piacere grandissimo ci siamo rincontrati attraverso facebook che ho attivato da poco perché come qualcuno sa era un troglodita di un orso di social adesso sono rimasto nel senso che ce l'ho ma lo guardo quasi mai vabbè abbiate pazienza però intanto ci siamo beccati grazie alla tua volontà ti ringrazio spero di riuscirti a rivedere live quando finirà tutto questo casino che è sempre un grande piacere e ti saluto anche a nome della community ti ringrazio un abbraccio e a presto ciao ciao Fabio grazie grazie a te grazie a te